Giorgio Balestreri, Presidente del Comitato dei Scircoli Velici del Golfo, ha dato una conferenza stampa d'avvertura, un dato interessante, ci sono 4.000, 5.000 forse di più barche nel Golfo? Esatto, sì. E quanti circoli ci sono? Dieci. Dieci. Della necessità di coordinare questi circoli per arrivare a una manifestazione come questa prima edizione, quanto è stato difficile e importante? Beh, è stato piuttosto difficile, però diciamo che tanto per cominciare il Golfo ci ha regalato due giornate di regate straordinariamente belle, perché mare piatto, vento forte, ci sono tutti certo molto divertiti. Quest'anno il risultato è stato, diciamo, buono, nel senso che c'erano in tutto più di 75-70, quasi 80 barche. Chiaramente è l'inizio, poi abbiamo lanciato un seme, il seme germoglierà, pensiamo che l'anno prossimo ce ne potrà essere il doppio e poi l'anno dopo ancora il triplo, per arrivare, certo non arriveremo mai a quello che dicono a fare a Trieste con la Barcolana, però l'ambizione è quella di creare qualcosa del genere anche qui, sul Tirreno. Un evento, un punto di riferimento e questo ci diamo appuntamento al prossimo anno. Grazie Presidente, grazie a tutti. Grazie a voi.